Bene, oggi affrontiamo l'analisi dei circuiti che funzionano alimentati in corrente alternata che sono la base della nostra tecnologia, di come l'energia viene prodotta e trasmessa soprattutto, d'accordo? E al solito useremo il materiale dell'OpenTax College e delle simulazioni del FET e qual è il nostro obiettivo? Andiamo a vedere quali sono gli strumenti, in realtà questo è un esempio perché le possibilità sono infinitamente più vaste, ma vediamo un esempio semplice di un circuito che contenga tutti gli elementi di circuito che abbiamo visto fino adesso la resistenza, il condensatore e l'induttore con la sua induttanza e che sia alimentato, vedete qua sotto, vedete il cursore? Sì, no? Ho visto che c'è qui questo aggeggio, potrei usare questo qui che sia alimentato da un generatore di tensione alternata, tipicamente una tensione sinusoidale d'accordo? Che cosa succede? Beh, qual è l'equazione che governa questo circuito? In realtà, come già, fatemi fare un passo indietro questo simbolo R, la resistenza, in realtà è un'idealizzazione la resistenza, tutto sommato, è distribuita in tutto il circuito la si formalizza come concentrata in questo elemento per semplificarsi un po' con la vita così come l'induttanza in realtà è legata a tutto il percorso fatto dalle cariche non solo a questa parte quindi dal punto di vista formale il campo elettrodinamico non è un campo conservativo abbiamo già visto che a circuitazione non nulla ma è l'opposto, legge di Fara di Neumann-Lenz, della derivata del flusso del campo magnetico quindi non posso più applicare la legge di Kirchhoff sulle maglie d'accordo? Perché non è più vero che il campo elettrico è conservativo il campo elettrico non lo è più a circuitazione non nulla però per riuscire a, in qualche modo, riguadagnare la semplicità dell'equazione di Kirchhoff sulle maglie si usa l'equazione di Kirchhoff generalizzata dove, qui vedete questa sommatoria alla somma di tutte le cadute di potenziale cioè potenziale a valle meno potenziale a monte si aggiunge il termine meno L di H di T che è l'espressione in relazione alla corrente della legge di Fara di Neumann-Lenz e questo si può non uguale a zero questa si chiama legge di Kirchhoff generalizzata d'accordo? e questa sarà quella che governa il nostro circuito ci sono domande? andiamo a vedere qualcosa più in dettaglio se abbiamo un circuito dove i nostri elementi sono tutti in serie quindi sono attraversati dalla stessa corrente e il generatore produce una tensione una forza elettromotrice, se preferite che ha un valore di picco V0 per il seno di ωt dove ω è la pulsazione radiante al secondo o se preferite 2π diviso il periodo d'accordo? allora la legge di Kirchhoff cioè la legge del circuito si può tradurre in questa equazione se percorro il circuito nel senso della corrente e faccio il potenziale a valle meno quello a monte ho V nel generatore poi ho meno RI caduto di potenziale attraverso la resistenza meno Q su C per il condensatore e diciamo meno L su D su DT intendendo che la forza elettromotrice legata alla legge di Faraday-Neumann-Lenz sia concentrata nell'induttanza e tutto uguale a 0 ok? questo non è altro che chiamiamola sempre a legge di Kirchhoff anche che in realtà non lo è è la traduzione nel nostro caso specifico della legge di Kirchhoff delle maglie anche perché abbiamo una maglia sola d'accordo? andiamo a sviluppare più in dettaglio la nostra equazione la corrente possiamo esprimerla come la derivata della carica sul nostro condensatore in funzione del tempo abbiamo già usato diverse volte questa relazione e nella legge di Faraday-Neumann c'è la derivata della corrente che quindi per in relazione alla carica devo derivare due volte se derivo una volta la carica ottengo la corrente se derivo due volte la corrente ottengo la derivata seconda scusate, se derivo due volte la carica ottengo la derivata seconda della carica questa sicuramente in matematica l'avete già vista la derivata seconda per cui la mia equazione diventa scritta in modo da ordinare per ordine di derivazione l'induttanza per la derivata seconda della carica sul condensatore rispetto al tempo che sta al posto della derivata della corrente più la resistenza per la derivata della carica del condensatore che sta al posto della corrente più q su c che vale la tensione del generatore ok? questo è una bestia piuttosto difficile da trattare perché è una derivata seconda è un'equazione differenziale di secondo ordine completa dove c'è la funzione la sua derivata prima e anche la sua derivata seconda l'unico vantaggio che ha è che è lineare cioè le derivate non sono al quadrato trattare questo tipo di problema richiede un costo di matematica del secondo anno dell'università uno strumento piuttosto difficile da trattare usiamo un'altra strada è ugualmente valida ok? andiamo a vedere in dettaglio cosa fa il nostro generatore rispetto al generatore di corrente continua dove il generatore produce una tensione continua e dc sta per corrente continua direct current e la corrente anche è proporzionale per esempio attraverso una resistenza alla tensione quindi le due vanno di pari passo e non cambiano nel tempo normalmente salvo in alcuni casi come abbiamo visto in circuito rc o rl nel caso invece del generatore di corrente alternata avremo una corrente che varia nel tempo e così anche la tensione che varia nel tempo e così anche la corrente ok? e non sempre avranno la stessa fase come vedremo a breve in particolare ad esempio se esaminiamo l'elemento più semplice del nostro circuito andiamo adesso a esaminare come si comportano tutti gli elementi del circuito presi da soli in presenza di un'alimentazione alternata ok? se ho solo la resistenza eccola qua sopra allora posso usare semplicemente la legge di Ohm la corrente nel mio circuito e quindi la corrente che attraverso la resistenza sarà la caduta di potenziale tra il capo e la resistenza diviso la resistenza stessa v su r legge di Ohm quindi faccio altro che prendere la relazione che mi dà la tensione v0 seno omega t la divido per r e ottengo la corrente ok? in questo caso vedete che la dipendenza dal tempo della tensione v e della corrente i è la stessa dentro ho una funzione seno dello stesso angolo l'angolo omega t è un angolo generalizzato in realtà non è un angolo in senso geometrico d'accordo? tutti gli argomenti delle funzioni goniometriche sono in realtà interpretabili in termini di radianti però siccome fisicamente non sono angoli cioè non sono quantità nel mondo reale che rappresentano angoli vengono assumendo il nome di fase l'argomento della funzione seno e coseno ok? quando non hanno a che fare con il vero e proprio angolo si chiamano sono applicati a oggetti che si chiamano fasi quindi la fase della corrente è omega t e la fase della tensione è omega t quindi corrente e tensione si dice che sono in fase cioè nello stesso istante la fase che li caratterizza è la stessa e quindi oscillano come avevamo visto nella figura di prima nello stesso modo che sono a zero nello stesso istante sono al picco nello stesso istante sono al minimo nello stesso istante e così via anche se le ampiezze sono diverse d'accordo? questo è il significato di dire che corrente e tensione sono in fase e questo è quello che succede nel caso della resistenza nessun problema d'accordo? ecco qui avete per esempio l'andamento della tensione nel caso del generatore qui avete il simbolo del generatore se sono in fase le due correnti le due funzioni quella che dà la tensione e quella che dà la corrente oscillano nello stesso modo si raggiungono nello stesso istante i valori nulli i valori di picco le creste e i valori di minimo che sono le gole d'accordo? questo è quello che succede se alimento la mia resistenza con un generatore di tensione alternata una cosa tutto sommato abbastanza semplice allora questo ci dà lo spunto per vedere le cose in modo da un punto di vista leggermente diverso ok sicuramente ricordate quanto avete visto nel quando studiavate il terzo il moto circolare uniforme è il moto armonico immaginate di avere un vettore ricordate che questa tra presente un vettore che ruota velocità angolare costante ok e che potete assimilare a questo oggetto nel caso della corrente o a questo nel caso della tensione immaginate che questo ruoti in un piano verticale in un piano x allora se proiettate questo vettore vorrei parlare della corrente più facile sull'asse verticale e se omega t è la fase del nostro vettore qui lo interpretiamo come un vero e proprio angolo allora la componente verticale del nostro vettore è proprio il zero lunghezza del vettore per il seno dell'angolo che è quello che si usa anche quando si definiscono le funzioni goniometriche lunghezza del vettore per il seno dell'angolo la componente verticale lunghezza del vettore per il corsino dell'angolo la componente orizzontale ok e quindi la nostra relazione v la tensione del generatore al tempo t che è v zero per seno omega t possiamo interpretare quello che misuriamo cioè la tensione ai capi del generatore e dei vari elementi di circuito che vedremo a breve come la proiezione in un piano ipoteticamente reale quello verticale nel nostro assi cartesiani di un vettore che sta in realtà ruotando ok così come per esempio il moto armonico della molla la posizione della molla potete interpretarla come la proiezione sull'asse della molla di un vettore che sta ruotando tutti i moti armonici possono essere interpretati come la proiezione su un diametro di un moto circolare uniforme qui è uguale il vettore legato alla fase quindi all'istante di tempo in cui voglio conoscere la tensione si chiama vettore di fase o fasore e quindi avremo vettori di fase per la tensione e per la corrente i ok siccome nel caso della resistenza i due due enti fisici tensione e corrente sono in fase torniamo un secondo indietro cioè oscillano nello stesso modo questo possiamo interpretarlo dicendo che nel nostro ipotetico piano xy i due vettori sono paralleli cioè formano poi l'asse delle x l'asse orizzontale dove è il cursore eccolo qua lo stesso angolo i due vettori sono paralleli l'uno all'altro sono in fase geometricamente possiamo interpretarlo dicendo che i vettori di fase o i fasori di corrente e tensione sono paralleli ok dal punto di vista formale il associare il vettore alla corrente e alla tensione lo si realizza immaginando che la nostra grandezza corrente elettrica e tensione del generatore siano in realtà le parti reali di due numeri complessi utilizzando i numeri complessi che hanno una parte reale e una parte immaginaria è molto più semplice trattare la matematica dei circuiti in corrente alternata i numeri immaginari ahimè hanno una brutta nomea perché uno pensa che sono immaginari cioè cose che non esiste in realtà sono molto più reali molto più concreti dei numeri reali ok qui non useremo la matematica la matematica e numeri complessi ma usiamo questa schematizzazione cioè la parte che misura è solo una parte appunto dell'ente fisico in gioco che è il mio vettore di fase io misuro solo la sua proiezione sull'asse verticale che diventa il nostro mondo reale esiste un altro asse o meglio è come se esistesse e in matematica quando dico è come se esistesse in realtà esiste se posso immaginare qualcosa anche se non la vedo e funziona questo è molto più reale di quello che vedo in realtà allora esiste uno spazio in cui c'è un vettore che ruota e il mondo delle nostre misure non è altro che la proiezione di questo ente che ruota in un mondo che noi possiamo solo immaginare ma che in realtà esiste e che è un altro e che è tenente tra virgolette le cose più semplici è chiaro il punto se applichiamo questa tecnica di vettore di fase alla resistenza allora abbiamo visto che vettore di fase della corrente vettore di fase della tensione hanno la stessa dipendenza temporale sempre seno omega t quindi sono in fase quindi i loro vettori di fase sono paralleli in ogni istante ruotano insieme che succede invece per il caso del condensatore che è un po' medioelementare beh anche in quel caso lì utilizzo sempre la legge delle maglie però stavolta butto via tutto ciò che non è presente nel mio circuito quindi elimino r elimino l e mi rimane v meno q su c che fa 0 quindi la tensione è q su c ok per cui per avere la corrente la carica scusate nel mio condensatore è sufficiente che prenda il valore di picco della tensione generata del generatore v0 lo moltiplico per la carica e ho la carica massima presente con il mio condensatore se invece mi interessa la corrente devo derivare questo perché mi interessa la relazione che c'è tra tensione e corrente tensione del generatore e corrente nel circuito ma se derivo questo devo derivare la il seno di omega t qui c'è un meno che non ho messo perché scusate se è un omega omega c v0 è il valore di picco della corrente se derivo il coseno ottengo omega volt il coseno qui vedete bene che la tensione v0 seno omega t la corrente omega c v0 potremmo interpretarla come i0 valore di picco della corrente hanno dipendenze diverse dal tempo in uno il coseno in uno il seno non sono in fase ok possiamo usare una delle relazioni che sicuramente hai visto ma l'avete dimenticate ma è bene che rinfrescarle degli angoli associati in goniometria per cui il coseno di un angolo posso sempre pensarlo come il seno dell'angolo aumentato di picco di conseguenza posso scrivere la corrente omega c v0 coseno coseno omega t come omega c v0 seno di omega t più fi greco mezi adesso se confronto questa relazione con quella della tensione di 0 seno omega t vedo che le due fasi sono diverse tensione e corrente nel circuito c non sono in fase la fase della corrente è maggiore di quella della tensione per ogni istante quindi si dice che siccome la fase della corrente è più grande la fase è in anticipo sulla tensione perché a parità di t la fase della corrente è più grande di quella della tensione perché è ben aumentata di un quarto di periodo pi greco mezi e un quarto di periodo perfetto allora abbiamo ancora di uno allora qui abbiamo prima esaminato quello che succede nel circuito solo con r li vediamo uno per uno e poi li mettiamo tutti insieme con r per avere la corrente basta che divido per r e quindi ho v zero fratto r se l'omega t sono apposta nessun problema se invece della resistenza ho il connessatore che ha capacità c allora la relazione tra che coinvolge la differenza di potenziale capito del connessatore e la capacità del connessatore coinvolge la carica non la corrente direttamente quindi v vale q carica sui piatti del condensatore diviso c siccome v varia nel tempo anche q cambia nel tempo quindi la dipendenza temporale della carica sui due piatti del condensatore sarà q zero valore di picco che in realtà corrisponde a cv zero per sempre il seno di omega t ok perché i due sono ottenuti l'uno rispetto all'altro dividendo per una costante o moltiplicando per una costante come nel caso della resistenza però stavolta q non è la corrente è la carica per avere quanta corrente fluisce nel mio circuito devo andare a fare la derivata di questa grandezza perché la derivata della cioè la qualità di carica che cambia sul condensatore è proprio quella che si sposta lungo il circuito quindi per avere la corrente elettrica che fluisce nel nostro circuito solo con c non faccio altro che derivare rispetto al tempo la carica presente su ciascun piatto se lo faccio devo derivare cv zero seno omega t cv zero sono costanti le porto fuori dal seno di derivata la derivata di seno omega t derivata di funzione composta è la derivata del seno che è il coseno per la derivata rispetto al tempo di omega t quindi viene omega volt il coseno di omega t quindi ottengo una funzione i del tempo che è omega pulsazione del generatore per c capacità del connessatore v zero tensione di picco del generatore per il coseno di omega t quindi ottengo una funzione goniometrica diversa non è più il seno ok quindi corrente e tensione non sono in fase cioè quando un è al picco non è al picco anche l'altra quando un è al minimo non è al minimo anche l'altra l'altra è di un'altra parte come faccio a confrontare le fasi beh cerco di esprimere entrambe in termini della stessa funzione goniometrica lo posso fare sì basta che uso gli angoli associati c'è una relazione molto semplice tra il seno e il coseno di un angolo che dice che il coseno di un angolo alfa scusate posso pensarlo come il seno dell'angolo aumentato di pi greco mezi immaginate il cerchio goniometrico è facile raffigurarselo quindi la corrente posso scriverla come un valore di picco omega t v0 per il seno di omega t più pi greco mezzi quindi adesso se guardate la tensione di seno omega t e la corrente o i0 seno omega t più pi greco mezzi non sono più in fase qui è evidente che le fasi sono diverse la fase della tensione è omega t la fase della corrente è omega t più pi greco mezzi siccome a parità di tempo la fase della corrente è più grande di quella della tensione attenzione questo è un punto fondamentale si dice che la corrente o meglio il fasore della corrente è in anticipo sulla tensione cioè raggiunge la stessa fase prima o viceversa la tensione è in ritardo rispetto alla corrente si raggiunge la fase della corrente dopo se andiamo a mettere in grafico questo è come prendere il grafico della funzione tensione e spostarlo verso sinistra di pi greco mezzi quindi avete qui adesso che i due grafici la tensione è V e la corrente in funzione del tempo vedete che non sono più paralleli quando uno è nullo la tensione è nulla la corrente è il suo picco se T è 0 la fase della tensione è 0 la fase della corrente è pi greco mezzi che è il suo picco e viceversa quando è nulla la corrente è il picco la tensione e così via sono sfasate di pi greco mezzi di un quarto di periodo d'accordo? quindi nel nostro spazio immaginario dove abbiamo i vettori di fase il fasore della tensione è V è il fasore della corrente I sono due vettori che formano la tensione forma con l'angolo con l'asse orizzontale l'angolo omega T mentre il vettore che dà la corrente è omega T più pi greco mezzi quindi lo ruoto di un angolo retto per cui la sua fase è più grande di quella della tensione ok è chiaro questo e quindi se li proietto entrambi sull'asse delle X ho delle componenti che mi descrivono quello che io vado a misurare nel mondo nel circuito reale che posso pensarli come oggetti ottenuti proiettando su un determinato asse dei vettori che stanno in risultato semplicemente ruotando ok facciamo un altro passetto dal punto di vista formale un passetto molto importante vi ricordate la legge di Ohm cosa dice la legge di Ohm se Ohm è resistenza e Oh torniamo indietro che forse avendo la davanti ecco se ho un elemento del circuito come la resistenza un utilizzatore ok quello che io vedo ai capi dell'utilizzatore sarà la differenza di potenziale e quanta corrente lo attraversa tra queste due grandezze c'è una relazione semplice ok la differenza di potenziale vale la corrente per la resistenza o se preferite la corrente è la differenza di potenziale diviso la resistenza domanda posso raggiungere lo stesso tipo di descrizione anche nel caso di un altro tipo di utilizzatore come il condensatore risposta sì basta che introduco un nuovo strumento che si chiama reattanza che se volete è la generalizzazione della resistenza faccio in modo di poter scrivere anche per il condensatore una relazione tra attenzione qui parlo dei valori di picco perché non essendo in fase non posso semplicemente prendere la tensione e dividerla per la reattanza per averla corrente perché sono sfasati però posso farlo per i picchi per i valori di picco intendo il massimo della nostra sinusoide ok se prendo il valore di picco della tensione e lo divido per questa grandezza ottengo la corrente è sufficiente definire questa x che prende il nome di reattanza capacitiva 1 fratto omega volte c se chiamo questa grandezza 1 su omega c reattanza capacitiva cioè quello che avrei se al posto del condensatore avesse una resistenza con una resistenza che vale 1 su omega c avrei una relazione tra i picchi di tensione e di corrente dello stesso tipo cioè picco della tensione diviso reattanza capacitiva uguale picco della corrente è proprio nient'altro che una legge di ohm generalizzata allora si introduce questo io non vuoi chiamarlo trucco matematico ma in realtà i trucchi matematici sono molto più profondi di quello che in realtà non sembra ce lo renderemo conto a breve è una generalizzazione cioè pensiamo più in grande letteralmente e includiamo anche il condensatore nel tipo di comportamento specifico della resistenza cioè della legge di ohm quindi questo elemento di circuito può essere caratterizzato da questa che si chiama reattanza capacitiva potete immaginarlo come un comportamento ohmico per quanto riguarda i picchi lo insisto su questo ok detto questo facciamo un altro passo verso la generalizzazione in generale abbiamo visto che ci sono comportamenti diversi la resistenza a corrente e tensione in fase il condensatore ha corrente e tensione sfasate di pi greco metti io dico ma potrebbero anche esserci casi intermedi in generale avrò potrò avere che la tensione v ha una certa dipendenza temporale diciamo quella solita seno omega t mentre la corrente è sfasata rispetto alla tensione di uno sfasamento fi un angolo quello che è in questo mondo i due fasori non sono più paralleli perché sono sfasati di un angolo v e fi ok allora come mi comporto in questo caso per esempio potrei siccome ho comunque oggetti che oscillano nel tempo potrebbe interessarmi per caratterizzare in modo semplice andare a considerare qual è il loro comportamento medio d'accordo ma qui per esempio avete il valore della tensione ma se io faccio semplicemente la media della tensione e la media si fa sul periodo che è 2 pi greco su omega devo considerare il valore medio tra 0 e 2 pi greco o comunque tra 2 pi greco e 4 pi greco eccetera devo prendere il periodo della funzione goniometrica che sto considerando questo qua è il seno però se lo faccio ottengo un valore 0 perché se osservate bene il grafico la tensione sarà tanto positiva quanto negativa il grafico è simmetrico rispetto allo 0 per cui se ne considero il valore medio e il valore medio lo prendo in senso il valore medio dell'integrale avete fatto l'integrale definita ahimè a breve su questi schermi la media che è il valore medio integrale troverete a breve il teorema fondamentale del calcolo differenziale che utilizza questo concetto prendo l'integrale definita in un certo intervallo di tempo e lo divido per quella lunghezza di quell'intervallo se lo faccio ottengo un valore 0 se la nostra funzione è la funzione sinusoidale proprio perché la funzione è sinusoidale e simmetrica rispetto al valore nullo è tanto sopra quanto sotto per dirla in termini terra terra quindi in realtà questo tipo di media non mi interessa non mi dice niente ok che cosa si fa allora si prende non la media ma il valore quadratico medio cioè prende la media del quadrato della tensione il quale essendo quadrato è sempre positivo ok e il valore medio del quadrato sotto radice prende il nome di valore efficace o se preferite in inglese si usa anche rms root mean square cioè il valore la radice del valore quadratico medio qui si che non è 0 perché se ho il quadrato tutta la funzione sarà sempre sopra lo 0 e di fatto è possibile dimostrare il calcolo non è difficile che se prendo il il valore quadratico medio della tensione questo risulta essere uguale a un mezzo per il valore di picco quindi il valore efficace della tensione è V0 su radice di 2 idem per la corrente ok quando noi diciamo sapete come sapete bene se noi adesso usassimo un tester sui due due prese di corrente della corrente a muro ci mettiamo un oscilloscopio andiamo a prendere i poli nei due cavi della corrente vediamo un andamento sinusoidale ok e lì la frequenza con cui oscila la corrente di casa è di 50 Hz ok quando dico che la tensione di casa è una tensione a 220 volte quello che dico è che sto dando il valore efficace non il valore di picco il valore di picco della corrente di casa in realtà è radice di 2 volte 220 volte quindi il valore è più grande 300 è qualcosa dovrebbe essere ok la tensione di casa la rete domestica è caratterizzata da non dal valore di picco ma dal valore efficace i famosi 220 sono un valore efficace della corrente perché comunque la corrente oscilla che è la tensione scusa che è la corrente anche che ne è della potenza allora beh la potenza abbiamo già visto quando abbiamo fatto i circuiti in corrente continua non è altro che il prodotto tra la differenza di potenziale o tensione o forza elettromotice per la corrente ok quindi farò il prodotto tra v0 seno omega t e i0 seno omega t più fi perché corrente e tensione saranno in generale sfasate ok quindi qui posso andare a considerare la potenza media non mi serve più quella efficace e di fatto la potenza media è data del prodotto tra i valori efficaci di tensione e di corrente per il coseno dello sfasamento attenzione questa si chiama formula di Galileo Ferrari tecnico italiano che dice come calcolare la potenza media dissipata da un utilizzatore all'interno di un circuito in corrente alternata prendi valori efficaci di tensione e di corrente e li moltiplico per il coseno dello sfasamento quindi nel caso della resistenza ho sfasamento nullo perché corrente e tensione sono in fase e quindi ho una potenza media dissipata dalla resistenza che è un mezzo dei valori di picco ricordate che il valore efficace è 1 su radici di 2 volte il valore di picco e in ogni caso non è 0 cioè la resistenza consuma energia per la terra a terra diverso il comportamento del condensatore perché nel condensatore ho uno sfasamento di pi greco mezzi e il coseno di pi greco mezzi è 0 quindi se uso questa relazione la relazione di Ferraris avrò la tensione di picco di efficace la corrente efficace attraverso il condensatore ma il coseno è 0 perché pi greco e fi è pi greco mezzi detto in altre parole il condensatore ideale non consuma energia non dissipa energia questo è un punto importante se è un elemento di circuito dove tensione e corrente sono sfasati di pi greco mezzi quell'elemento di circuito non consuma energia la potenza media dissipata il valore istantaneo prodotto di tensione per corrente può anche non essere 0 ma il valore medio cioè sulla media sul periodo delle sue oscillazioni è 0 ok tutto chiaro tenetemi ben a mente questa formula ecco qui il valore della potenza nel caso della resistenza vedete che è tutta sopra lo 0 e il valore medio questo per la resistenza è un mezzo di 0 di 0 invece faccio l'analogo per il condensatore il valore istantaneo della potenza è centrato sullo 0 per cui il valore medio è nullo il condensatore non consuma energia che è superideale ovviamente il prodotto seno omega t per seno omega t più fi ok in questo caso diventa seno omega t per seno omega t perché fi è 0 nella resistenza quindi ho il seno al quadrato e il seno al quadrato è una funzione sempre positiva è sempre sopra lo 0 per cui il suo valore medio per forza di cose sarà positivo la media di un numero positivo non può essere negativa e di fatto risulta essere la metà dei prodotti dei valori di picco che è il prodotto dei valori efficaci ok qui non ho messo la parte matematica di tutta la derivazione può essere fatta per esercizio però aspetteremo a farla dopo che avete fatto l'interale definito non è difficile è un po' lungo ma non è difficile ok e siamo arrivati all'indutanza quanto tempo abbiamo ok dobbiamo anche fermarsi in realtà due parole solo sull'indutanza l'ultimo elemento di circuito che dobbiamo vedere da solo poi vediamo come si comporta l'intero circuito avremo che se abbiamo un circuito dove ho solo l'indutanza L quindi hanno né capacità né resistenza un circuito ideale però non faccio altro che usare la legge di paradigmi quindi V meno LD su di T che è 0 per cui la tensione ai capi dell'indutanza ok è data da questa relazione è la la corrente qui devo trovare la tensione ce l'ho già V V0 che è solo omega T devo trovare una funzione che mi dà la corrente che si comporta in questo modo cioè la cui derivata è il seno di omega T qual è la funzione la cui derivata è il seno meno coseno quindi la corrente sarà meno V0 su omega L parola di Doiman eccetera per il coseno di omega T ma anche qui angoli associati meno il coseno di un angolo è immaginabile come il seno di alfa meno pi greco mezzi di conseguenza la corrente è sfasata rispetto alla tensione di meno pi greco mezzi quindi la fase della corrente è più piccola di quella della tensione quindi la corrente nell'indutanza è in ritardo rispetto alla tensione i fasori sono orientati in modo opposto rispetto a quelli della capacità prima c'è la corrente e dopo c'è la tensione mentre prima era il contrario ok quindi la fase della corrente questo vettore della corrente ha un angolo di pi greco mezzi inferiore a quello della tensione quindi ho omega T meno pi greco mezzi quindi ruoto in senso orario siccome lo sfasamento è meno pi greco mezzi anche in questo caso cioè anche per l'indutanza la legge di Ferrari mi dice che la potenza dissipata è zero perché il prodotto dei picchi VF per IF per cosen fi fa zero perché il cosen di meno pi greco mezzi è zero quindi anche l'indutanza non consuma energia anche qui posso usare una reattanza posso generalizzare la legge di Ohm al caso dell'indutanza a patto che io definisca la reattanza induttiva come omega volte L ok per oggi ci fermiamo qua riprendiamo da qui la prossima volta ok